ciao a tutti e bentornati su questo canale in questo breve video oggi vi farò vedere come settare la roma correttamente visto che la nave è uscita oggi con un giorno di anticipo rispetto a quanto si pensasse e quindi andremo a vedere quali sono i consumabili che può montare quali sono i potenziamenti migliori da mettere e quali sono le skill del capitano più raccomandate per questa nave iniziamo subito quindi andando a vedere quelli che sono i consumabili vi consiglio di utilizzare la versione premium dei consumabili che potete semplicemente pagare con i crediti di gioco se volete risparmiare magari utilizzate almeno i primi due consumabili premium quindi squadra controllo danni premium e squadra di riparazione premium perché vi aiutano veramente molto nel terzo slot possiamo scegliere tra lo spotter e il caccia catapultabile lo spotter ci sarà utile per avere un po più di range per cui in quelle situazioni in cui magari ci serve quell'attimino di range in più lo spotter ci può venire incontro e tra l'altro è sicuramente molto utile per sparare alle navi che camperano nel fumo in particolare agli incrociatori inglesi che magari vi stanno dando completamente il fianco anche mentre sono fermi nel fumo con questo consumabile potete mirare esattamente al centro tra le due posizioni in cui vedete che c'è la bordata che parte dalla nave inglese dagli incrociatori inglesi mirare al centro sparare e colpire quindi i navi anche che stanno ferme nel fumo a camperare o magari vi sarà sicuramente utile per sparare a navi che sono dietro alle isole o che non riuscite a vedere bene insomma può darvi una mano da questo punto di vista il cacciacatapultabile invece vi darà una mano con quella che è la scarsa antiaerea di questa nave per cui vi dà una mano contro le portaerei nemiche e inoltre può essere utilizzato per spottare le navi nemiche per l'appunto oppure per spottare i siluri che qualche cacciator pediniere nemico vi ha tirato soprattutto se lo utilizzate con la prima skill del capitano che vi dà il doppio cacciacatapultabile il che lo rende una sorta di idroeconomico perché ovviamente con due aerei che vi girano attorno continuamente è abbastanza facile spottare i siluri nemici quindi qui la scelta sta a voi tra il velivolo da ricognizione e il cacciacatapultabile in base a come pensate di voler utilizzare la nave passando invece a quelli che sono i potenziamenti nel primo slot vi consiglio di mettere armamento principale modificato 1 perché le torrette di questa nave non sono particolarmente resistenti per cui questo ci aiuterà sicuramente nel secondo slot sistema di controllo danni modificato 1 per essere un po più resistenti agli incendi nel terzo slot sistema di puntamento modificato 1 per avere una precisione migliore visto che non è mai abbastanza e tra l'altro andare a potenziare antiaerea o secondarie non vale la pena nel quarto slot vi consiglio di mettere sistema di controllo danni modificato 2 che diminuisce la durata degli incendi rendendoci quindi una corazzata ancora più resistente altrimenti se volete potreste utilizzare anche organi di timoneria modificati 2 per avere un timone un po più veloce anche se di per sé ha già un ottimo un ottimo tempo di spostamento di soli 15,6 secondi nell'ultimo slot invece andiamo a prendere sistema di mimetizzazione modificato 1 in modo da riuscire a raggiungere quel livello di mimetizzazione molto elevato che può avere questa nave quando si utilizza sia questa upgrade che la relativa skill del capitano andiamo quindi a vedere quali sono le skill del capitano migliori per questa nave di primo livello abbiamo bersaglio prioritario come skill molto utile visto che siamo per l'appunto una corazzata con un ottimo livello di mimetizzazione per cui sapere quando ingaggiare quando disingaggiare quando magari possiamo permetterci di fare certe manovre oppure no ci può aiutare bersaglio prioritario ovviamente ci fa vedere quante persone ci stanno mirando per cui ci aiuta a capire cosa fare e cosa non fare anche manutenzione preventiva potrebbe essere utile perché come vi dicevo già prima le torrette di questa nave non sono particolarmente resistenti hanno una buona corazzatura frontale di 380 mm angolata tuttavia nel retro come potete vedere hanno solo tra i 150 e i 130 mm di corazza per cui sono facilmente incapacitabili anche da parte degli incrociatori nella parte più avanzata abbiamo 200 mm che tuttavia comunque rimane poco come livello di corazzatura un livello di corazzatura molto basso anche questo penetrabile da certi incrociatori per cui per l'appunto manutenzione preventiva può esserci utile sicuramente per evitare di perdere le torrette altra skill di primo livello sicuramente utile può essere il doppio caccia come già vi dicevo tuttavia ovviamente vi è utile se andate ad utilizzare il consumabile del caccia il doppio spotter magari può avere la sua utilità perché pur sempre sono due aerei che vi girano attorno e possono spottare i siluri tuttavia il doppio caccia è più utile perché sono aerei più resistenti di caccia rispetto agli spotter e tra l'altro girano più velocemente poi comunque il doppio caccia vi aiuta anche a ingaggiare molto più facilmente le squadre aere nemiche mentre avere il doppio spotter in un certo senso magari può esservi utile per avere lo spotter anche quando uno dei due per avere l'effetto dello spotter anche quando uno dei due viene abbattuto però di per sé non non varrebbe la pena utilizzare questa skill con lo spotter per quanto riguarda le skill di secondo livello la prima da prendere è scarica di adrenalina essendo una corazzata questa è una skill sicuramente molto forte come prima skill di livello 3 vi consiglierei poi di prendere superintendent perché vi dà una carica di vita in più cosa che è sempre molto utile e come prima skill di quarto livello andare a prendere esperto di occultamento per raggiungere insieme all'upgrade che abbiamo visto prima del concealment un ottimo livello di mimetizzazione di 11,2 chilometri per cui un livello di mimetizzazione davvero molto molto buono e che per l'appunto possiamo raggiungere solo attraverso la skill del capitano e l'upgrade relativo alla nave dopo di ciò possiamo andare a scegliere che tipo di build fare se vogliamo assolutamente avere un certo livello di protezione contro le porterie nemiche io vi consiglierei di prendere armamento controllo manuale per l'armamento antiaereo bft e ovviamente di utilizzare il caccia e quindi di prendere anche la skill per il doppio caccia a quel punto dovrebbero rimanervi due punti se non mi sbaglio per cui andate a prendere tiratore esperto vediamo sono 10 10 14 14 17 se prendete se non avete già preso come prima skill centro direzione caccia catapultabili vi rimarrà un punto per cui andate a prendere l'altra skill che non avevate preso all'inizio se invece come prima skill avete preso centro di direzione caccia catapultabili avrete due punti che vi rimangono per cui potete tornare alla seconda linea e prendere tiratore esperto perché per quanto siano veloci le torrette già di base a girare perché ci mettono 30 secondi avercele ancora più veloci può aiutarvi in certe situazioni in cui vi serve che girino particolarmente velocemente altrimenti se volete fare una skill una build per sfruttare quelle che sono le vere e proprie i veri e propri punti di forza della nave io vi consiglierei di andare a prendere fire prevention quando arrivate a 14 punti e poi quando arrivate a 17 andare a prendere fondamentali di sopravvivenza questo perché siamo una corazzata molto resistente già di base perché ha un ottimo livello di corazzatura finché non date completamente al fianco cosa che non dovreste fare assolutamente con nessuna corazzata o con nessuna nave essenzialmente ma con questa in particolare perché ha una sita del alzata per cui se voi rimanete angolati bene è una nave con un'ottima armatura andare a prendere prevenzione di incendi e fondamentali di sopravvivenza ci renderà ancora più resistenti perché già rimbalzeremo la maggior parte degli api grazie alla nostra ottima armatura e in più gli sarà difficile abbatterci a he ed incendi perché per l'appunto queste due skill ci vanno a potenziare enormemente da questo punto di vista rendendo la nave capace di prendere solo tre incendi alla volta e diminuendo la durata di questi stessi incendi a quel punto vi rimarebbero altri due punti con cui andare a prendere ancora una volta tiratore esperto altre skill utili per questa corazzata essenzialmente non ce ne sono non non andate a fare una build a secondarie non ne vale la pena la metà spara ap delle secondarie e secondarie che sparano ap non sono buone tra l'altro hanno anche una ricarica lenta e poco range per cui evitate tutte le skill di secondarie i fk non vale minimamente la pena ovviamente non prendete skill per la porta aerei né tantomeno rpf o localizzazione radio che è una skill utile solo su certi dd di alto livello ovviamente esperto di demolizioni non andate a prenderlo perché gli he sono già pessimi così come sono il livello di incendi è già molto basso e anche il livello di danno per proiettile è molto basso per cui andare ad aggiungere un 2% di incendio a questi he non vi servirà assolutamente a nulla skill di terzo livello che può essere utile invece è sicuramente vigilance soprattutto se avete scelto di utilizzare lo spotter e non avete la skill del doppio caccia quindi non avete la possibilità di avere due caccia che vi girano intorno per spottare i siluri vigilance può essere quindi una buona opzione perché non siete una corazzata con l'hydro come le tedesche altri skill utili di livello 3 ovviamente niente skill da porta aerei niente ricarica di siluri assolutamente non andare a prendere esperto di sopravvivenza perché avere quei neanche 3000 di vita in più una corazzata non se ne fa assolutamente nulla skill di livello 2 le più utili sono sicuramente scarica di adrenalina e tiratore esperto tutte le altre essenzialmente non vi servono non c'è qualcosa di particolarmente utile se per qualche motivo vi sono avanzati dei punti magari massima allerta o tutto fare possono essere utili però sono sicuramente meno utili di quelle che già vi ho consigliato finora altri skill di livello 1 sono tutte quante inutili servente esperto skill per i caccia non c'è altro di utile quindi la build finale che vi raccomanderei io è iniziare con bersaglio prioritario come seconda come seconda skill scarica di adrenalina superintendent esperto di occultamento prevenzione incendi fondamentali di sopravvivenza e per finire tiratore esperto questa è la build che vi consiglio per la roma spero quindi che il video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto voi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video ciao